dai Tony massima concentrazione 406 chili pazzesco Tony no 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 non si può vedere grandissimo grandissimo Tony ma chi è? Grande Tony 407 chili dai Luca 407 chili dai Tony 410 chili Tony sternativo 410 chili Luca Prada dai ragazzi Luca Prada ragazzi e li chiude e li chiude e continuiamo e si continua ragazzi a sfinimento 420 chili Tony sternativo dai Tony ragazzi 420 chili ragazzi 420 chili è lui è lui arriva grande Luca 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 Prada dai Luca Luca Prada 421 chili l'ha fatto l'ha fatto l'ha fatto l'ha fatto l'ha fatto l'ha fatto 421 chili l'ha fatto grande Drago 421 chili che atleti ragazzi un applauso a tutti e due bravissimi grande Luca grande Tony tutti e due grande Luca grande Tony grande bellissimo grande mamma mia che roba ragazzi mamma mia